Oggi abbiamo affrontato il tema della crisi idrica, abbiamo cercato di vedere che cosa significa all'interno del cambiamento climatico il rapporto con le risorse idriche. Abbiamo ragionato fondamentalmente di un cambio di paradigma che si basa sulla prima constatazione che siamo obbligati ad adattarci alla nuova situazione, però dobbiamo cambiare profondamente l'approccio che abbiamo all'acqua, passare dalla logica che dobbiamo difenderci dall'acqua alla logica che dobbiamo difendere l'acqua. E poi siamo andati a vedere alcuni esempi concreti presi da alcuni progetti europei che sono stati realizzati a piccola scala che però sono paradigmatici, per esempio il progetto Life Beware fatto in Veneto che mostra dove per accumulare acqua, per averne quando ci manca, possiamo avere un approccio cosiddetto goccia a goccia, non possiamo buttare via niente, dobbiamo pensare prima di tutto di trattenere e eventualmente se non sappiamo dove mettere quello che ci cade sopra la testa lo infiltriamo nel sottosuolo invece che scaricarlo direttamente e mandarlo il più lontano possibile, il prima possibile. Ecco, questo ci porta nella mia conclusione che dobbiamo sostanzialmente agire secondo quella che è stata definita nel 1977 da Schneider come strategia della Genesi una risorsa quando ce l'hai in abbondanza accumulala pensando a quando ti mancherà. La governance ci vuole, la questione è che se pensiamo restiamo strettamente al campo dell'acqua, noi siamo abituati a pensare ad una governance per quanto riguarda la difesa dall'acqua e lì sicuramente ci vuole una capacità di ragionare a grande scale, con i fiumi non si scherza indipendentemente da altre considerazioni, quindi sicuramente ci vogliono organismi che abbiano le competenze tecniche per pianificare e li abbiamo, tutto sommato non è che siamo presi male per quanto riguarda il modo in cui pensiamo a difenderci. Il problema diventa molto più complesso quando invece dobbiamo pensare ad accumulare, quindi nel caso del tema di oggi era quello della crisi, quindi della mancanza di acqua che è l'altra faccia della medaglia, troppa acqua o la mancanza di acqua, oggi abbiamo guardato questa faccia che è quella quando ci manca e qui invece la governance non c'è perché pensiamo, i consorzi di bonifica pensano solo al problema di dare l'acqua all'agricoltura per scopirrigui, i gestori del ciclo integrato, acquedotti e depurazione non si preoccupano minimamente se la risorsa a monte c'è, la catturano, la distribuiscono, cercano di efficientare il famoso tema delle perdite, però tra tutti questi soggetti, coloro che gestiscono i sistemi idraulici hanno lo scopo di trasferire l'acqua il più velocemente possibile verso l'ultimo corpo recettore che è il mare, ecco questi tre soggetti, geni civili, magistrato alle acque, dall'altra parte consorzi di bonifica, dall'altra parte gestori, non hanno un soggetto superiore che dica cosa facciamo per trattenerla l'acqua, come riusciamo a usare il sottosuolo come grande bacino di accumulo, invece in questo momento l'approccio è ingegneristico a grande scala, così come per la difesa facciamo le grandi aree di espansione, adesso dovremo fare solo che grandi dighe e grandi invasi, quindi il problema di mancanza di governance c'è, la soluzione non è che sia la soluzione, è una soluzione, è quella di fare in modo che ciascun cittadino, comunità locale, eccetera, venga reso responsabile, perché come abbiamo visto anche oggi, ognuno di noi nel suo piccolo può fare grandi cose se le mettiamo tutte quante assieme e non è così solo che un po' di buonismo, ma veramente l'abbiamo visto con le comunità energetiche, giustamente è stato detto perché noi cominciamo a pensare a comunità dell'acqua dove al nostro interno accumuliamo e scambiamo l'acqua che ci serve. Allora, nei prossimi anni sappiamo che avremo meno disponibilità della risorsa, siamo in tempo per agire ai tre livelli fondamentali per l'accumulo della risorsa, sicuramente avremo bisogno soprattutto di rigenerare i bacini che abbiamo già fatto, pensiamo a quante dighe abbiamo costruito nelle Alpi e quante di queste oggi si sono riempite dei sedimenti e hanno ridotto la capacità, quindi per esempio rigenerando la capacità di accumulo dei grandi bacini prima di costruirne degli altri. Dall'altra parte, soprattutto il mondo agricolo può fare grandissime cose rendendo disponibile una piccola parte della superficie per accumuli superficiali, vedi il tema dei laghetti, ma soprattutto per azioni di ricarica artificiale, quello che oggi abbiamo mostrato per esempio con le tecniche MAR, dei pozzi bevitori, delle aree forestali di infiltrazione, eccetera, eccetera. E poi invece nel diffuso urbano, ogni abitazione dovremmo veramente cambiare il paradigma, non è che l'acqua me la dai, l'acqua io prima di tutto me la tengo perché dall'acquedotto mi potrà arrivare l'acqua, quella buona, quella potabile, eccetera, ma tutta l'altra acqua che io uso devo imparare a gestirmela, lo stanno facendo in gran parte dei paesi europei, noi siamo molto indietro su questo concetto.